Cominciamo di qua, un percorso brevissimo che sarà fatto di 30 passi e prima di cominciare vi chiedo di toccare questa materia. Molto, molto forte e facile da lavorare, come è possibile? Molto. Quali idee? Molto. 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 Conchiglie tritate? Sì, conchiglie tritate. Conchiglie tritate. Conchiglie tritate. Ma non solo. Ma non solo. Ma non solo. Cosa fanno i pesci durante la loro vita? Cosa fanno i pesci durante la loro vita? Cosa fanno i pesci durante la loro vita? Mangiano, si accoppiano, si f***, si f***, si muoiono, si muoiono, si muoiono, ma soprattutto fanno la canca. Ma prima di tutto, si f***vano tutti i pesci nel mare. In tutta la loro vita. Da appena nati a prima di morire fanno molta cacca, come me, come ogni giorno. Quindi bisogna trovare un modo di usare. Questa città è una città fatta di cacca. Alla città è fatta di cacca. Cacca, cacca. Tutti i luoghi della terra. Fatti di sedimenti marini. Quando si senti di sedimento marino, è cacca.